La mia famiglia è Paolo Meris, che è uno dei due consiglieri comunali di Trieste, è intervenito a Padova, quando non parlava della delusione, perché la c'è cassa sia nel comune di Padova che in Trieste, quindi erano coinvolti nella lettera di intenti di questi intercitti, sia quello di Paolo Lazzaronato, che poi adesso guarda caso al fatto ministro e anche a Padova di Trieste, per cui il discoggio è stato praticamente uguale al nostro, a quello di Udine. C'è stata questa lettera di intenti, che non è passata per consiglia comunale, quindi anche loro come noi hanno parlato della notizia sui giornali, insomma in mezzo a mattino così, e questa lettera diceva che c'era una trattativa con un piccolo di sigletezza, che poi dall'altro aveva un termine di 90 giorni, cosa che poi invece non è stata, perché invece di 90 giorni la trattativa è durata da metà più o meno, perché la lettera, se non sbaglio, era da 11 del 6 e la trattativa è data sui giornali che si è conclusa per fine 25 del 7. Quindi anche lì probabilmente tramite la lettera di intenti quindi ci sarà qualche causa che poi passa a questo termine, quindi si può probabilmente finire prima di la trattativa se le questioni ci sono. Quindi anche quello che è stato detto qui a Udine, che dopo 120 giorni magari si parlerà con qualche altro partner, magari non c'è nessuno. Ecco, quindi il ministro mi dice che probabilmente le giornali, qui è 24 del 7, e il giornale del 25 verrà fuori che la trattativa è conclusa, lui dice che le trattative sono abbastanza avanti, e quindi è proprio credico perché il giorno dopo i giornali la trattativa è conclusa. Niente, questo è il più o meno del riassunto quanto è vero.